Protezione civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Parco, Gran Sasso, Laga, personale del 118, associazioni di volontariato, insieme per sensibilizzare i cittadini e gli studenti terramani alla corretta prevenzione degli incendi boschivi e ai comportamenti da assumere in caso di pericolo. L'iniziativa si svolgerà sabato 5 giugno a Teramo, in Piazza Marteri della Libertà, a partire dalle ore 9 e vedrà come protagonisti tutti i corpi che si operano quotidianamente per prevenire situazioni di pericolo, dai cui possono derivare perdite di vite umane, distruzione di boschi e danni agli animali e all'agricoltura. L'azione di sensibilizzazione, che fa seguito a quella già realizzata lo scorso 10 ottobre, sempre a Teramo, rientra nel progetto comunitario Prompt, di cui è partner la comunità montana della Laga, unica rappresentante italiana del progetto, insieme con la provincia di Macerata. L'organizzazione delle attività di comunicazione è stata affidata al GAL Appennino Teramano. Alla giornata di sensibilizzazione parteciperanno gli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Teramo.